Un anno importante che Pistoia vive come una responsabilità nazionale, non tanto come una medaglia o una benemerenza. Innanzitutto la responsabilità di riaffermare operosamente, concretamente, ogni giorno antichi valori di civiltà. Perché, come diceva il poeta, il futuro ha un cuore antico e noi pensiamo che il futuro anche dell'Europa debba passare per la rigenerazione della democrazia attraverso il sapere, inteso come il primo dei diritti di cittadinanza. Come fattore di emancipazione individuale e collettiva, come ciò che rende liberi ed eguali gli umani. Per questo siamo venuti oggi non soltanto a presentare l'anno di Pistoia come capitale italiana della cultura ma soprattutto per dialogare con le istituzioni europee e con gli altri sindaci che guidano città, capitali in Italia e in Europa della cultura per provare ad invitarli a Pistoia e costruire insieme una rete di relazioni permanente che provi a riaffermare la prospettiva degli Stati Uniti d'Europa, un'Europa delle città, un'Europa meno incivile di quella che vede tornare i fili spinati alle frontiere, i rigurgiti razzisti, i governi xenofobi, apertamente xenofobi e che torni invece appunto ad investire su antichi valori di civiltà democratica. L'investimento in cultura rappresenta soprattutto questo, una strategia di civilizzazione, di lungo termine, di rigenerazione della democrazia. Ci piacerebbe, raccogliendo un invito dell'onorevole Silvia Costa, ospitare proprio a Pistoia una riflessione esigente su questo tema per dare un contributo piccolo ma speriamo non insignificante a una causa più comune, più grande di quella della nostra esperienza che è quella della prospettiva appunto di quella grande utopia concreta figlia anche della migliore cultura politica italiana che sono gli Stati Uniti d'Europa.